Un saluto dalla redazione del Tg della mobilità. Bus navetta su tutte le linee tramviarie anche oggi per lasciare spazio alla manutenzione della rete. La linea 3 viaggerà su bus sino al 4 agosto, la linea 8 sino a lunedì, le linee 5, 14 e 19 diventeranno collegamenti bus sino al 14 agosto e bus navetta sino al 7 agosto anche sulla linea 2, in questo caso per le potature in Viale Tiziano. Le altre notizie da lunedì, nuovo orario feriale sulla linea Roma Civita Castellana Viterbo, invariato il numero di corse sulla tratta urbana, aumenta invece l'orario di servizio. Da Montebello al mattino la corsa di inizio giornata partirà 20 minuti prima alle 5 e 35. La sera l'ultimo treno da Flaminio per Montebello sarà alle 23 e non più alle 22 e 40. Sulla tratta extraurbana le corse ferroviarie passano da 24 a 34, mentre le corse bus da 8 a 12. Per il momento è tutto, un saluto dal Tg della Mobilità.